Il momento è arrivato, il nuovo aggiornamento di Adopt Me è qui e io sono pronta per mostrarvi tutti i nuovi pet nelle loro versioni Neon li andremo a fare proprio insieme Ciao a tutti i dreamers e i miei moltissimi sognetori io sono Francesca e bentornati sul canale bentornati in un nuovissimo video di Adopt Me oggi andremo ad analizzare insieme il nuovo aggiornamento e vi mostrerò tutti i nuovi pet Neon tutti quanti, tutti 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 quindi ragazzi se anche a voi piace tantissimo questo aggiornamento per me è quasi 10 su 10, mi raccomando lasciate un bel mi piace adesso iscrivendovi anche al canale e tutto il resto ma spostiamoci su Adopt Me eccolo qui, Adopt Me, Adopt Me, Welcome to Summer Fest inizia l'estate qui l'estate inizia qui nuovo minigioco, star delle onde, nuovi animaletti, cucciolo di squalo e altri pesci abbigliamento ai giocattoli estivi baby shot, allora no thanks, andiamo su chiudi no in realtà non andiamo su chiudi perché oggi ci siamo connessi per un attimo solo il 980esimo giorno di fila abbiamo preso 15 stelline e una rega al cesta e finalmente ragazzi possiamo richiedere il Pomeranian alleluia perché siamo a 412 stelline quindi presto potremmo avere l'urca andiamo su chiudi e con me c'è un fantastico baby shark marrone chi è stato a colorarmelo di marrone il mio baby shark scommetto che è stata meriene nella live me lo sento che è stata meriene però a me è fatto così sembra come dire come dirlo sembrerebbe il oddio non mi viene il termine sembra tipo il coniglietto della linda il banni della linda anche a voi allora vabbè in realtà vi sto in realtà vi sto portando a vedere dove si trova il nuovo aggiornamento perché già so che in tantissimi dirte Franci ma dov'è il nuovo aggiornamento io non riesco a trovarlo allora ragazzi uscendo dai veicoli eccolo qua il nuovo aggiornamento è qui in questa nuova struttura una struttura gigantesca dove già potete trovare 4 nuovi pet più tantissimi accessori vestiti veicoli e un minigioco allora il minigioco è in questione questo qui andiamo a vedere un po' quanto tempo ci vuole per vedere il nuovo minigioco tra 3 minuti e 20 secondi io inizio a entrare nella Queque così magari mi avvisano tra 13 giorni qui ci sarà qualcosa perché si ragazzi questo è un aggiornamento settimanale ovvero ci saranno ben 4 settimane di aggiornamenti 4 settimane ovvero 3 perché la prima è già passata andiamo al campeggio Brotti ci porterai tantissimo ma adesso non è il momento andiamoci a vedere come sono i nuovi pet entrati una volta nel negozio ragazzi troverete tutti i nuovi accessori che hanno un prezzo onesto in realtà sia gli accessori che i veicoli disponibili hanno dei prezzi onesti perché ragazzi ho fatto 3 volte il minigioco e già ho 7750 bols non ne ho spesa nemmeno una ovviamente il metodo si possono anche comprare ma io ho ottenuto non ho comprato ancora nulla e quindi sono già quasi a 8000 bols si fanno davvero molto veloce considerando che ogni minigioco è ogni 8 minuti allora i 4 pet disponibili sono questi due leggendari ovvero il cane o dog che costa 600 robux il cucciolo di squalo che è questo qui che costa 100.000 che sono entrambi leggendari come ultra raro c'è il banco di sgombri che costa 60.000 e poi c'è il pesce volante che ne costa 3750 il pesce volante è comune però ragazzi da quest'altro lato poi ci sono i vari giochi giochi e minigiochi per il momento io non spendo niente voglio vedere quante bols riesco ad ottenere senza comprarle né con i robux né spendendoli quindi se ne parla poi proprio alla fine per fare tutto poi qui tra 20 giorni usciranno questi due pet ragazzi seguitemi tra 20 giorni questi due pet tra 13 giorni questo qui tra 13 giorni la box da cui escono 4 tipo di granchi diversi non si chiamano granchi questi come si chiamano i paguri 4 tipi di panguri diversi quindi con la paguro box mentre tra 6 giorni tra una settimana usciranno questi altri tre pet cioè ragazzi questa è una specie di tartaruga con gli alberi questa è una specie di qualcosa non lo so la lobster ovvero la ragosta cioè raga con altri veicoli questo veicolo sembra fighissimo cioè quindi raga questo aggiornamento è uno dei più grandi aggiornamenti che ci sono stati di Adopt Me fino ad ora ok il minigioco sta iniziando quindi noi corriamo subito conta qua che posso vi declassificate primo, secondo e così via ma quel che conta è anche ragazzi quanti stelline voglio dire oioio il nome torato ok importa anche quante stelline riuscite ad acchiappare quindi andiamo ok non c'è un vero e proprio percorso da seguire e guidare questi cosini è terribile le stelle poi mi sembra che ragazzi che ogni volta cambiano posto quindi cioè c'è anche questo questo fattore le stelle non sono mai allo stesso posto quindi non è che si può dire seguite sempre lo stesso percorso perché è inutile seguire sempre lo stesso percorso evitate i tizi rossi perché i tizi rossi vi fanno perdere tempo no mancata e i tizi rossi sono i negozianti se li prendete non succede niente non è che vi tolgono vita o cose del genere ma semplicemente i negozianti vi rallentano e rischiate anche di finire fuori strada no volevo prendere vabbè ho arrofuso la stellina perché sono salita qui ok ok credo che questa sia la prima volta ragazzi che riesco a beccare no 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 Alicia mi sono portata a casa più di 3000 stelline sicuro ci siamo posizionati secondo con 17 stelline e abbiamo preso 3150 stelline cioè come vedete e la prossima minigioco riparte tra 8 minuti e 40 secondi quindi è veramente veramente facile adesso andiamoci a vedere Nyon volete questi petti shall we subito 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 possiamo fare il cane o dog quindi andiamo e vediamocelo subito Nyon anzi partiamo da comune non comune e così via iniziamoci a fare il piesce violante Nyon che al di botto gli sono uscite tutte queste missioni ah no perché ho un bambino addosso lascia il bambino per questo mi sono uscite tutte quelle missioni ok andiamoli a fare subito Nyon ok ok ciao Nixie lo facciamo fly tra l'altro Nyon fly che secondo me spacca un botto veramente spacca un botto troppo 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 carino ragazzi cioè guardatelo Nyon questo è veramente veramente bello soprattutto se lo facciamo fly spacca 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 un botto il prossimo da fare Nyon è il banco di scombri che ho fatto anche ride quindi lo vedrete tra un secondo come ride cioè non mi faccio domande io riguardo questo questi vet ride vi devo dire la verità non mi pongo molte domande perché sono davvero curiosi come pet ma sono troppo carini e mi piacciono davvero tanto 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 eccoli qui c'è è troppo troppo carino cioè non mi faccio domande su come funzioni l'effetto ride ma Nyon ragazzi sono bellissimi veramente questo credo che tra tutti sia uno dei miei preferiti perché veramente 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 merita andandoci a fare il cane o dog che è quello che costa robux devo dire Nyon anche questo è carino e ci sta ed eccolo qua diventa tipo abbrustolito lo vedete troppo 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 carino abbrustolito mi piace un botto mega tutti quanti non mi piacciono un granché voi direte franci ma non ci hai fatto vedere il baby shark il baby shark purtroppo devo farvelo vedere per forza dall'inventario cioè ma questo è il cane o dog fa questo effetto bruciacchiato troppo troppo carino poi se ci andiamo a vedere anche il branco di sgombri che mi si sta baggando un po' anche il branco di sgombri ragazzi merita merita un botto mi piace troppo è uno dei più belli ragazzi uno dei più belli e poi va bene abbiamo il piese violante che anche è troppo carino sembra un povero bebbiano ragazzi che non ci ha creduto abbastanza che ci ha creduto troppo oppure è uno dei due soprattutto poi fly cioè spacca 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 un botto ora presentarci con dei pet neon potrebbe risultare un po' tomacci per queste persone perché dicono come hai fatto ad avere già neon ma domani ragazzi proveremo a scambiare il nostro cane o dog neon e vediamo un po' come le persone reagiscono a questo pet troppo 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 tenero allora per il minigioco manca ancora un polto e tra l'altro quindi andiamoci a vedere quanto manca per il minigioco cioè perché ormai ogni volta che è come le cose di natale no? ogni volta che ci troviamo che c'è il minigioco in corso tra tre minuti quindi aspetteremo di nuovo il minigioco ma nel frattempo ci andiamo a vedere il lo squalo non hanno aggiornato questo che si fa cucciolo di squalo cioè letteralmente questo si chiama baby shark diventa grigio che è già grigio ma tiene queste sfumature rosa davvero davvero bellissime tra i quattro pet però io lo ammetto ragazzi per come il cucciolo di squalo è il mio pet preferito di questo aggiornamento ma il mio preferito in assoluto neon è il banco di sgombri cioè raga il banco di sgombri è qualcosa di allucinante e stupendo veramente veramente stupendo mi piace veramente ma non vi sto nemmeno a dire quanto mi piace beh in realtà no non dicevo facciamo crescere il pet ma in realtà si rimettiamoci il nostro cucciolo e lo facciamo gli facciamo fare le missioni comunque che praticamente ha bisogno di fare tutto lui ok iniziamo con l'azzerarci sicuramente ci chiameranno quando sarà il momento cioè perché comunque l'obiettivo è riuscire a fare questo pet neon si spenderemo 600 600 mila cose alla botta si ma sono troppo carini questo merita tanto però il banco di sgombri è il mio preferito voi fatevi sapere nei commenti qual è il vostro preferito tra tutti questi pet sia nella loro versione normale che nella loro versione neon mi raccomando questa volta devo ammetterlo ragazzi questo aggiornamento mi sta piacendo tanto questo aggiornamento mi piace tanto questo aggiornamento è ufficialmente frenchy dreams approved approvato da frenchy dreams mi dispiace mary ma non ce la faccio a vederlo cioccolato mi viene troppa fame aspetta ce la possiamo fare un secondo dammi un secondo ok dimmi che non è iniziato dimmi che non è iniziato il mio gioco sono ancora in tempo sono ancora in tempo baby shock tuttoro tuttoro baby shock tuttoro tuttoro sono pronta per beccarmi le stelline allora qui ci siamo beccati anche in questo caso più di 3000 di 3000 palline fantastico anzi no 2550 che comunque va bene siamo arrivati i terzi con 13 palline va bene va benissimo ragazzi vedo già siamo a 13000 tecnicamente facendo il gioco 5 volte perché questa è la mia quinta volta che lo faccio possiamo cambrare comprare di svariati pesci volanti e basta ok però possiamo comprare un bel po' di accessori e tutto il resto però vi ho detto io non spenderò nulla quindi ragazzi voi fatemi sapere che cosa ne pensate di questo aggiornamento qual è il vostro pet preferito qual è il vostro pet preferito nella sua versione neon il minigioco vi piace fatemelo sapere giù nei commenti lasciate un bel mi piace se questo video vi è piaciuto e prima di salutarci dobbiamo assolutamente ringraziare Roby YouTube Real che si è abbonata proprio ieri durante la live come dreamer di Platino grazie mille Sara un mega bacione per te e se tu che stai guardando questo video non sei ancora iscritto al canale cosa stai aspettando tappa qui sul pallino e poi sul tastino rosso iscriviti mentre per vedere altri video presenti sul mio canale ti basterà cliccare sulla miniatura che vedi a schermo io ti saluto e ci vediamo domani alle 15 con un nuovissimo video e mi raccomando non smettere mai di sognare ciao ciao